Vuoi ristrutturare casa a metà prezzo? Affidati a Facile Ristrutturare, che grazie al decreto rilancio acquisterà il tuo credito di imposta riconoscendoti uno sconto in fattura del 50%. Grazie allo sconto in fattura non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Chiama l'800 20 11 77 o vai su faccialistrutturare.it e prenota un sopralluogo con preventivo gratuito. Affrettati, l'offerta scade il 31 marzo, facile con Facile Ristrutturare.